Nel grandioso baldacchino situato sopra l'altare maggiore della basilica di San Pietro, Bernini realizza una delle più riuscite fusioni tra le varie arti. Su quattro piedistalli si ergono altrettante colonne tortili in bronzo dorato, alte circa 11 metri e riccamente decorate. Alla sommità sono coronate da capitelli compositi, sui quali si impostano quattro dadi che sostengono una trabeazione concava, che termina inferiormente imitando le falde di un baldacchino in tessuto. La copertura, frutto della collaborazione con Borromini, è costituita da quattro volute sagomate a dorso di delfino, che si elevano a partire dai piedi di angeli colossali e convergono al centro, sorreggendo un globo sormontato da una croce. La straordinaria unicità del baldacchino, oltre alla novità della tipologia inventata da Bernini, risiede nel modo in cui si integra all'interno della basilica. Nonostante le dimensioni colossali, infatti, esso appare esile e perfettamente proporzionato. Il colore scuro del bronzo profilato d'oro, contro la chiara policromia dei marmi circostanti, contribuisce a snellire la struttura, rendendola il perno attorno al quale si organizza idealmente, l'intero spazio, sottostante all'enorme cupola.